Eccoci qui con una cara amica, finalmente a Piazza di Spagna, me la presento, eccola qui. Buonasera a tutti, sono Cristina De Felice, sono felicissima di essere qui questa sera insieme ad Emanuela alla presentazione del concorso Premio alla Moda Un Volto per Fotomodella del prossimo anno, edizio 2021, perché ci saranno nuove categorie, quindi sono felicissima perché questa sera c'è la presentazione della categoria Lady e della categoria Over, e poi Emanuela sono affezionatissima alla categoria Over perché l'anno scorso sono arrivata terza nella categoria Over e quindi sono felicissima, è un bellissimo concorso dove poi ho conosciuto tante belle persone con le quali ho proseguito collaborazioni lavorative e quindi sono felicissima. E poi ci tengo a dirlo, ho iniziato con Emanuela partecipando ai suoi eventi, le sue sfilate, e quindi Emanuela è il mio portafortuna, io lo dico sempre, quindi abbiamo iniziato infatti due anni fa ed è sempre insomma un piacere, soprattutto dopo il periodo che stiamo affrontando, quindi comunque è sempre bello rincontrarsi. Bene, bene, sono felice di incontrarti in questo bellissimo evento di Marcia Sedoc, che è una cara amica davvero e organizza tante tante cose importanti a livello nazionale e internazionale. Ci tengo sempre a sottolinearlo ad ogni intervista perché davvero è un'occasione importante quella di voler stare insieme a tanta bella gente come te. Anche per me è lo stesso, ho tante bellissime persone con le quali sto proseguendo dei nuovi progetti, sia nel futuro immediato che nel futuro in una prospettiva più a lungo raggio e sono davvero felicissima. Bene, grazie ancora e alla prossima.